Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale, sono qui in compagnia di mia moglie e stasera ci facciamo una bella partitina Star Wars or l'esterno perché stiamo vedendo The Mandalorian quindi abbiamo una voglia disumana e poi comunque dopo averci fatto la video recensione e il cosa ne penso ci mancava una partita quindi alla fine, allora iniziamo, la tua carta personaggio la devi tenere girata dal lato dove c'è scritto preparazione ok, poi dimmi, leggi il tuo obiettivo personale, che cosa no, non è quello lì, quello lì è la carta banca dati sulla scheda del personaggio c'è scritto missione obiettivo personale allora, ottieni ricompense da due taglie per ottenere un punto fame e girare con sta carta ok quindi apporterà a termine due taglie due taglie e ricordati che l'obiettivo personale ti dà fama o no, c'è scritto fama o no, o nient'altro? no sì, per ottenere un punto fame e girare questa carta ok, io entro in possesso di una nave dal costo pari o superiore a 15.000 i soldi li guadagni ovviamente facendo le missioni per ottenere un punto fame e girare questa carta poi, nella carta che ti ho dato banca dati, leggo la mia, che dice destinazione è un carico ok, quindi il carico, vedi, qua giù nel costo della nave ci sono i vari slot vedi, carico, ad esempio modifiche, equipaggi e cose del genere sulla scheda della nave è quella lì, no? sì ok, io c'ho scritto carico, quindi lo devo mettere qui può portare solo un carico alla volta questi li sposto perché se no non c'ho posto comunque mi dice carico, anello di che frene quindi devo andare anello di che frene ottengo 5.000 e mi dice pianeta di partenza del mio personaggio che lei è Boba Fett e io sono an solo mi dice na lutta quindi la luna dov'è na lutta? la luna dei contrabbandieri è qui io parto da qui vai e c'ho un carico allora, invece la mia missione è ovviamente una taglia pianeta di partenza è Ryloth ok, Ryloth che è il pianeta di Darth Maul oh, poi taglia ricompense di eliminazione ottieni 5.000 crediti e un punto fama ok ricompensa di cattura consegna il segnalino di la bot a cantonica per ottenere 10.000 crediti e un punto Fima allora, qual è? scusa, te devi fare, non ho capito? ah, la registrazione è perenne adesso ne ho fatto dire un dubbio guarda una se si sta andando no, ma è perenne nel senso le messe infinita che non si ferma dovrebbe si si sta andando no ma è rosso vuol dire che sta registrando si 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 ok allora, la tua missione qual è? la mia missione è o se elimino l'obiettivo mi da 5.000 crediti e un punto fama ok invece se lo catturo lo devo consegnare sto lobot a cantonica per ottenere 10.000 crediti e un punto fama lobot sotto vedi c'ha scritto un colore sì cos'è? è una mano con la pistola ah no, scusami un pallino bianco un pallino bianco? quindi ti sai dove sono i pallini bianchi e devi andarla a cercare però non sai dov'è che si nasconde appunto capito? quindi lo devi trovare ora prenditi il coso del turno qui accanto che ti ho dato te lo metti vicino e si inizia ora quella lì metti la su tanto quella è la tua missione mentre invece la mia dimissione è di portare semplicemente questo carico no? la prima cosa che puoi fare perché il turno si divide in tre fasi fase passo di pianificazione azioni e incontro pianificazione puoi o stare fermo non fai niente non ti muovi e guadagni 2.000 ok? così perché hai fatto un lavoretto lì per lì e ti danno 2.000 senza fare nulla se no se c'hai danni al personaggio o alla nave ripari tutto però stai sempre ferma o se no ti puoi muovere a te ti conviene muoverti ora come ora no? per muoverti guarda il valore vedi i valori che ci sono sulla nave a sinistra quelli colorati il primo è il movimento il secondo è l'attacco il quattro è la difesa ok? e lo stesso sul personaggio il rosso è l'attacco il quattro sono i punti ferita fine del gioco tutto qui ora te ti devi muovere quindi la tua missione iniziale qual è questa qui? quella di cercare lo bot cercare lo bot lo bot che è uno di quei pallini bianchi esatto te per andarlo a cercare lui no? il primo è qua esatto te ti devi di quanto ti muove si muove la tua nave di 5 perché è come la mia quindi fai 5 ah l'unica cosa ti muovi si di 1 per ogni casella l'unica cosa quando ti devi fermare che finisci il turno se passi sopra la casella di una pattuglia di queste qui e non c'è la reputazione in positivo con loro quindi ti fermano per farti un controllo attaccano? no 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 se ci sono negative si se sono neutrali comunque ti fermano per un controllo e perdi il turno o su questa boia rossa quindi ora fai quello che devi fare ah se c'è i movimenti quindi devo fare così? 1 2 però posso già no nella fase di incontro ok quando è la fase di incontro? la fase di incontro è una fase a piedi no? che si rivela quando successivamente succede beh la fase di incontro viene quando te arrivi nella fase di incontro alla fine il passo dell'incontro però è successivo ora come ora non ci interessa l'unica cosa che per fare quegli incontri lì perché vedi queste qui gialle sono boi di segnalazione cioè boi nel senso appunto dovete profiamare rotte mettiamole così commerciali pianeti però per fare gli incontri sui pianeti ok questi qui poi entrano nello spazio quindi dovrei per forza essere in un pianeta quindi te potresti anche dire io sto fermo lì non mi muovo per questo turno perché ricordati la mappa è divisa in settori vedi praticamente dove si attaccano no? te se puoi cercare il tuo obiettivo non lo devi cercare a mezzo allo spazio lo devi ricercare in un pianeta perché lui si nasconde in qualche pianeta quindi rimandi sul Ryloth ti faccio vedere quindi non fai l'azione di movimento prenditi duemila crediti visto che non hai fatto l'azione di movimento quindi vai lì e peschi duemila prendo due quindi la tua fase di pianificazione è finita perché poi fa un'azione soltanto ora fase delle azioni ne puoi fare quante te ne pare però di quelle che ci sono elencate ne puoi fare soltanto una per tipo puoi fare consigna carichi e taglie non ce n'hai o almeno no no non ce la consegne azioni di mercato che ora ti faccio vedere e poi c'è scambiacarte con un giocatore nella tua casella però non c'è nessuno ora te sei sul pianeta sul pianeta c'è questo mercatino che vedi qua giù con queste carte messe davanti no te puoi fare te ne puoi comprare una se c'è soldi perché alcune non chiedono manco soldi per essere prese quindi guarda il costo è sempre in alto a destra qua giù quindi o ne compri una o se te le guardi e una di queste non ti garba te puoi dire vabbè questa la scarto no ma anche per farmi uno sprecio a me perché magari se lì c'è una nave che mi garba a me te me la levi dal mercato no una sola di tutte queste la puoi scartare la metti sotto al mazzo e ne rigiri in altra quindi guarda un po' se c'è qualcosa che ti interessa ad esempio c'è sempre scritto qui guarda cosa sono le carte lui è un membro dell'equipaggio membri dell'equipaggio ti danno missioni particolari abilità le abilità sono la cosa più importante poi questa è una modifica alla nave la tua è una nave usata in vendita una nave usata in vendita questo addirittura è un carico si questo è un carico da trasportare una missione una taglia puoi prendere anche taglia mercatini per fare soldi e cose del genere lo dite per favore si guardate quella lì a zero costa zero ok cosa ti dice fa ricoprezza di eliminazione mi dà 6.000 crediti e un punto fama se lo ammazzo se lo catturo questo è un segnalino gari danna kessel per ottenere 7.000 crediti due punti fama una reputazione ribelle lui che colore è cos'è un punto bianco sempre un punto? bianco e quindi però se lo prendo occhio occhio te quanti lavori di taglia ne puoi avere solo due come vedi qui sotto lo vuoi prendere quello? vuoi fare una taglia? non vuoi comprare nient'altro? aspetta questo cos'è? questo cos'è? no c'è scritto a metà carta c'è scritto cos'è? a favore del sindacato a volte per alzare la reputazione guardale te le studi un attimino e quando hai trovato quella che ti garba te la prendo adesso la metto qua potrebbe essere una scelta poi questo qui è un carico è una missione guarda il costo non può essere comprato su Ryloth ok te non sei su destinazione no sei su Ryloth ok ok perfetto non la posso comprare no quindi levala proprio quindi la scarto la vuoi scartare o no? perché se la scarti poi dopo succede una cosa si potrebbero muovere le pattuglie cosa vuoi fare? se compri o scarti le pattuglie si muovono no no ma anche se compri anche se compri o pigli qualcosa le pattuglie si muovono ok questo equipaggio lo farei da un attimo lui potrebbe essere buono però il problema è che ti costa 10.000 non ce l'hai non lo voglio neanche guardare e questa è una modifica alla nave che ti costa 2.000 però questa è una modifica guarda potrebbe essere cosa fa? una volta per combattimento navale puoi ripetere il tiro di un qualsiasi numero di tuoi dati a vuoto vuoto quando sul dado un esce nulla li puoi ritirare bene allora la compro 2.000? si ok compri ora però puoi comprare un oggetto solo non è che ne puoi comprare o quindi ho quello o quello infatti quello lo metti lì vai hai comprato quella te la metti sotto modifiche qua modifiche scusa dove c'è stato modifica un attimo certo che per chi ha un tavolo piccolo come il nostro è un casino ragazzi questo gioco veramente credetemi se vi piace guerra e stellare questo gioco è un gioiello ora hai comprato una di queste quindi si gira quella che c'è sopra perché nel mercato una deve essere sempre scoperta e se c'è un simbolo con l'icona delle pattuglie che si muovono le pattuglie vengono verso di te hai avuto fortuna non c'è nulla passo dell'incontro nel passo dell'incontro puoi o se c'hai una taglia no provare a fare la tua taglia e te nel caso ce l'hai o se no puoi fare un incontro della zona ok vedici anche scritto scopri una pattuglia o se no puoi combattere una pattuglia pattuglie non ce ne sono allora dove sei te puoi fare due cose o peschi una carta incontro della zona lì dove ti trovi Ryloth o Naboo quindi ci riguardi cosa succede o se no provi a fare quella che ci ti rivelando uno degli omini lì e scegli te quale dei contatti però ricordati che quando lo riveli parte un qualcosa ti potrebbe attaccare o potrebbe uscire una scenetta quindi vuoi vedere se quello tu bersaglio lo puoi fare solo in questa fase o vai su un evento casuale o vai dove ti vuoi andare allora giralo quello lì grigio era lui no lo giri e lo metti di là allora dovrebbe dare lo metti lì come si chiama V1L eh non è lui che ti serviva vai allora tenelo girato c'è un numerino V22 cos'è pesco la carta 22 lo devo leggere tenete la goglia vai pesco la carta 22 che io le potevo mettere in ordine a modino invece che alla rovescia bello stesso e vediamo cosa succede è un gioco anche visto lì c'è la forte della narrativa V1L la maggior parte dei droidi è fin troppo rigida quindi il comportamento rilassato e il carisma innato di V1L si rivela una piacevole sorpresa se sei Lando Carrissian non sei altrimenti puoi effettuare una prova di tecnologia se la superi ottieni il membro dell'equipaggio sottostante scarte il segnalino bellissimo allora te ce l'hai tecnologia sulla scheda di Boba Fett che abilità c'ha lui furtività e tattica no non ce l'ha quindi devi prendere e tirare i tuoi dadi per la prova che sono sempre la caratteristica sua ad attacco quanti sono tre tre dadi quindi prendi quei tre dadi lì li tiri e visto che non c'hai l'abilità solo il critico va bene il critico è quello vedi il sole praticamente il colpito però col bianco al centro col vuoto al centro quelli neri sono un corpo normale quindi solo con quei successi lì non c'avevi l'abilità che ti permette ma sono opere una modifica della nave no per un combattimento navale fallito? sì ok se fallisci puoi invece spendere tremila per superare questa prova se superi la prova ti prendi lui come equipaggio diventa tuo un tuo compagno ti segue affigata sto gioco mi guarda la morì in più ti dà influenza poi incontro te l'hai rivelato lui come incontro rivelandolo come incontro effettua un'azione di mercato anche se ti trovi su una boa di navigazione c'hai capito? quando arrivi nella tua fase dell'incontro puoi fare una cosa di mercato anche se ti trovi su una boa e non su un pianeta non si sa come sarà un gedibo se paghi tremila te lo prendi nell'equipaggio e non fa niente di che a parte l'abilità però ti dà anche influenza come nuova abilità quindi se ti chiedesse il gioco una prova con influenza te ce l'hai vabbè vai ti sei guadagnato l'omino dell'equipaggio vieni vieni ti faccio pulire i cessi e leva lui di lì perché il contatto non c'è più ovviamente lo levi e lo metti tipo lì così ok tocca a te hai finito il turno hai fatto tutto quello che c'era da fare tocca a me io mi riovo dopo la mia missione devo portare il carico all'anello di cafrene quindi anello di cafrene dov'è 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 deve essere per qui Kessel no è qua lì ok così vicino la mia nave si muove di 4 quindi muovilo verso di là non posso fare nient'altro 1 2 3 4 ora il mio turno in movimento è finito il mio passo delle azioni non posso fare nulla perché se lì nel mezzo cosa faccio devo per forza di cose un incontro lo devi fare sempre non puoi decidere di non farlo essendo in una boa di navigazione posso fare solo quello della boa ed eccolo qui vado nella boa di navigazione e c'è un segreto Fede quando ci sono dei segreti no no quando ci sono dei segreti li devi mettere da parte quindi qui si taglia e non te lo devo dire ma magari farlo vedere in web cioè nella fotocamera una carta segreto che sono quelle praticamente scritte alla rovescia me la leggo un attimino al segreto ok io un segreto vai fine della mia fase e non posso comprare non posso fare nulla si muovono le cose no tocca a te io mi muovo di 5 quindi 1 2 3 4 il pianeta ok e sei arrivata lì si ora mercato vuoi fare qualcosa o c'è da consegnare qualcosa devi consegnare no vuoi fare l'azione di mercato no non c'è niente anche qualcosa da girare per scartarla non ti interessa nulla per ora ah vince il primo che arriva a reputazione 10 a fama 10 ah posso fare la la taglia ma guarda è gratis si ok prendi la taglia te la metti poi tanto la leggerai dopo a cosa serve e tutto quanto e questo e questo si rivela questa volta si muove una pattuglia si muove una pattuglia gialla come vedi che quelle gialle sono aspetta sono blu e verli sindacato sindacato giallo di quanto c'è un numerino 3 quindi questa cialla fa 1 2 3 ok e viene verso di te basta il gioco è tutto qui fase dell'incontro cosa fai incontro del pianeta o incontro quello grigio incontro allora quello del pianeta no sicura non lo troverai mai il bersaglio così eh scusa ti lancio però no allora l'incontro del pianeta è una cosa casuale ti potrebbe capitare una cosa bella o una cosa brutta però se ti c'è da trovare un bersaglio vabbè allora faccio questo il bersaglio gira il coso grigio vediamo chi è dottor evazano e non è lui numero 9 e non è quello che ti serviva no fai il culo eh legge eh leggo io vuoi legge te vuoi legge vai allora neanche a me vai a genio ti dice effettua una prova di forza quindi fai una prova di forza ce l'hai forza come abilità no no pratica e furtività ok quindi tre l'occhi non so purtroppo se non c'è l'abilità va solo col critico se fallisci il tuo personaggio subisce due danni quindi ti prendi due di queste due te le metti sul personaggio sulla scheda del personaggio quanti punti hai fatto quattro mi sembra due danni sia in caso di successo che di fallimento puoi spendere duemila per ottenere il membro dell'equipaggio sottostante no ok l'equipaggio sottostante scartare il segnalino del dottor evazan no quindi lui adesso è lì no e ovviamente la sua carta rimane mi sembra che le carte vadano rimesse nel mazzo si perché poi dopo nel caso lo può combattere c'ha no 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 si e la carta si rimette nel mazzo fino a che nessuno lo va a interrogare o cose del genere ah culo ti ha spaccato dalle botte bel mandaloriano che sei buona davvero c'ho merda quindi fine dell'incontro tocca a me e muoviti verso l'anello di che frene di quanto si muove la mia nave come la tua quattro uno due tre e quattro tre e quattro non faccio nessuna azione non faccio niente devo pescare un'altra carta di queste qui questa mi dice ah un altro segreto ma tutti io li trovo aspetta vai rimesco aspetta vabbè tutti i segreti pesco sono tutti i segreti? no no pesco un'altra carta delle boe e vediamo cosa ne esce nessuna pattuglia ah perfetto non c'è nessuna pattuglia che è un altro segreto oh me la tengo sono tutti i segreti se te lo dì sono tutti i segreti le boe fai ho due segreti bellissimi e il mio incontro è finito la messa è finita andate in pace tocca a te eh quindi ah se mi dovessi scontrare con un altro giocatore passo alla boe successiva o succede un combattimento per forza visto che ognuno pensa a sé non ci si può attaccare tra i giocatori almeno che non ci sia no no ti può fermare anche nella stessa boa si può stare anche perché se no come si fa a scambiare però non ci si può attaccare l'unico modo è usarci carte contro cose del genere ok uno due tre quattro e cinque perché cinque si muove di più la tua nave? si di cinque cinque è vero anche la mia si muove di cinque l'ho sbagliato prima no di quattro ero già arrivato va bene uguale cambia nulla ok azioni non fai niente di particolare questa è tua e te la leggi se vedi che c'è una parte scritta in segreto devi leggere quella in segreto cioè devi leggere quella in segreto ti dice sopra pattuglie ti dice qualcosa pattuglia o non pattuglia nessuna pattuglia ok c'è la parte rigirata all'incontrario si allora devi leggere devi leggere quella lì ma è un segreto? eh? è un segreto? si leggitelo e poi la rigiri te la metti girata a faccia in giù quando l'hai capita ma tanto te la puoi vedere tutte le volte ti pare basta che la tieni nascosta contro l'hai fatto tocca a me muovemi per fare un anello di che frene vado laggiù come mia azione consegno questa qui che quindi va in fondo al mazzo no? la rimetto nel senso 91 lì dove deve andare e consegno il carico consegnando il carico non mi dà problema mio lo sai qual è? che non mi dà punti famo consegnate in basso anello di caffereni e ottengo 5.000 ce n'è uno da 5.000 quello lì? si vai piglio 5.000 più 4.000 9.000 e poi devo arrivare a comprare la nave e questa va qui ok ho consegnato ho fatto l'azione posso fare anche l'azione di mercato vediamo se c'è qualcosa o mi piglio lui no 6.000 manco per il cazzo questo lo sai questo è speciale compra una qualsiasi scheda nave dalla riserva che costi più della tua nave attuale colloca la scheda sul suo lato obiettivo della nave come di consueto poi la nave subisce 3 danni se la carta della nave non è stata no questa la metto sotto non mi guardo ma tanto non c'è altro da comprare questo cosa chiede questo costa 0 lavoro ricercato anzi sai che fu facciamo se mi piglio questo vi ricercato noti un nome familiare sulla lista degli avvisi d'Italia quanto pare ha messo i bastoni tra le ruote e la gente sbagliata destinazione una casella contenente un altro giocatore vedi che abbia almeno che abbia almeno una reputazione negativa te ce n'hai una negativa no risolvi un combattimento con quel giocatore vedi lo puoi fare quando te lo dice la carta questa via sarebbe bellina eh oddio lasciamola qui prendo e giro questa vediamo se si muove qualche pattuglia questa un migarba e se ne rivela un'altra no guarda un po' cos'è apparso tra le navi acquistabili guarda un po' cosa c'è qui amor mio la tua lo slave one ma 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 potremmo non incontro non c'ho da incontrare nessuno faccio l'incontro del pianeta dammi una di quelle lì allora incontro del pianeta dove sono io anello di cafrene sei un bugiardo grida il besalisk quando sbatte il pugno sul tavolo per poco non rovescio il tuo bicchiere forse qualche credito lo aiuterà a credere alle tue affermazioni puoi spendere 4.000 per comprare il tuo obiettivo personale ah no puoi spendere 4.000 per completare il tuo obiettivo personale o obiettivo della nave si si io spendo 4.000 e completo l'obiettivo personale come se ne avessi come se ne avessi spesi subito ti ho buono tieni tieni soldi facili che culo che culo lo giro dall'altra parte tra minchia ottengo più 2 nei cannoni della nave quindi ora non ho più 3 dadi ma ce ne ho 5 addirittura e più quando ti muovi entri nella casella di una pattuglia puoi effettuare una prova di pilotaggio se la superi non sei obbligato a terminare il tuo movimento in quella casella perché Anzual è bravissimo quindi fine tocca a te siccome io sono stata ferita 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 sono stata ferita per risanare tutti quanti i danni giusto? si leva tutti i danni non c'è più niente anche alla nave nel caso non c'è più nulla fine del turno finisci lì azioni non puoi fare nient'altro giusto? cioè azioni non puoi fare nulla sei in una boa cosa vuoi fare? no infatti ho scritto nessuna pattuglia e poi pattuglia so no devi leggere nessuna pattuglia perché te non sei in contatto con una pattuglia ma te le fate neanche a faccia in suo amore tanto non c'ho mica la super vista ah si muove? si si muove diverso di te della rotta più breve ok tre ok e poi c'è un segreto? è un segreto eh poi c'è un'azione eh se leggi il segreto devi fare tutto quello che c'è scritto nel segreto eh l'ho fatto solo che però non posso dirterlo ma l'azione la devi fare ora subito o c'è un momento particolare? ci dovrebbe essere scritto credo che la devo fare subito ok dimmi l'azione scarta questa carta per muovere una qualsiasi pattuglia direttamente fino alla tua no 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 era un segreto lo puoi fare quando ti pare e non per forza ora le carte segrete vabbè ormai che l'hai detto fallo magari si fanno sempre la strada più breve per arrivare fino da te posso metterlo qui? no no perché la strada più breve per arrivare verso di te è quella sotto questa qua qui mettitele lì accanto anche non le girate ne la faccio in su tanto non le vedo io più che altro ora avrei bisogno avrei bisogno di un lavoro di qualcosa che mi dia un po' di reputazione dimmi te quando passi quando passi e faccio aspetta io non capisco le cose qua sopra che dice ti devi vedere solo dove c'è il tuo segreto solo la parte segreta la parte quella scoperta se sei a contatto con una pattuglia se sei contro una di queste nella stessa casella devi fare per forza quella perché c'è la pattuglia se no lascia le scoperte lì almeno te le guardi non ti pari senza stammattia girare tutte le volte non tutte le vedo mica allora tocca a me io rimango lì becco 2000 tanto per ora non ha senso che io mi muova e vediamo al mercato se c'è qualcosa che mi può interessare questo è un lavoro che costa zero e questo uguale fai vedere favore del sindacato destinazione è una lutta c'ero c'ero prima da dove sono partito lì incontro effetto una prova di conoscenza se la superi completa questo lavoro se fallisci risolvi la carta 41 ok io prendo questa quindi ora ho un lavoro ok e il lavoro lo metto dove era dove era dove era i lavori lavoro taglia lo metto qui poi gira alla prima di quelle carte lì no quella lì sopra girala ok della ribellione si muove di quanto di tre quindi uno due e tre verso di me ok ho fatto il mercato azioni non ce n'ho da fare però devo andare su una lutta carta incontro carta incontro dammene una di quelle lì vediamo cosa viene stavolta allora anello di che frene dove sono io hai paura che la tua nave possa saltare in aria hai solo bisogno di un sistema di fuga puoi spendere mille per ottenere la modifica sottostante spendo mille e prendo la oh scusa e prendo la modifica che c'è qui sotto quando sto per morire invece di morire mi salvo perché c'ho un guscio di salvataggio fine tocca a te devi trovare dei lavori da fare perché qualcosa è di affama di lavori ce l'hai neanche troppi uno due tre e quattro ok arrivata mettimi il mio modino sul pianeta ce ne due lì appunto io dovrò stare fisso lì finché riscopri quella è la fase dell'incontro e dopo azione vuoi comprare qualcosa c'è da portare qualcosa da consegnare niente no tatooine no quindi c'è quello ma fa culo chi è ma che cacchio di nome è numero due venti ma te non sei boba fett te sei sfiga fett te sei cionco fett allora venti ponda baba non gli vai a genio ma con qualche credito potrebbe cambiare idea effetta una prova di forza a te stasera non è fortuna amore tira tre dadi ma cosa ti dà l'equipaggio influenza cos'era si influenza c'è mancazzo si pata oh cazzo sia in caso di successo che di fallimento puoi spendere 3000 per ottenere il membro dell'equipaggio e lui ti dà ti dà forza e scarti lui ma non c'ho sordi però ah non ce l'hai 3000 no quindi lui ponda baba niente allora lui rimane rivelato e la carta si rimette qui fanculo ponda baba ponda baby ponda 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 questo è bellino quindi è fatta la tua fase dell'incontro ed è finito muovimi per favore verso i soldi a venire verso una lutta quindi devo venire qua 1 2 3 4 e 5 azioni niente nessuna pattuglia no se possedi se possedi reputazione imperiale più o neutrale reputazione imperiale ma toshon neutrale ok i dati imperiali relativi a questo tratto di spazio suggeriscono la presenza di una scorciatoia poco più avanti muoviti fino al massimo di due caselle ah l'abbiamo messi qui sotto quelli che scartavamo si ok vai 2 1 2 sta arrivando una lutta fine tocca a te visto che stai ferma piglia i soldi appunto ah però scusami prima dell'incontro devo comprare qualcosa lo stavo già guardando ma poi mi è interrotto una cosa che non ti ho detto me ne scuso però me lo sono dimenticato se non hai soldi per comprare un oggetto puoi scartare tutto quello che hai che ha un costo il costo è sempre in alto a destra e se arrivi al costo puoi fare il baratto al valore ma lui non costa niente no e gli altri oggetti che hai nemmeno anche modifiche anche modifiche la tua navi quanto vale zero perché non la puoi rivendere quella di partenza no niente ok cosa va da piedi fluto nell'aria ci sono due cose a zero lì due possibili lavori nel caso ma nemmeno tutti sono pieni di lavoro ah fase incontro si chi è si chi è lo strozzone di merda allora visto che è il tuo lavoro ok si però fai vedere una cosa lui dice fammi vedere giusto una cosa 18 non devi pescare la carta perché non è un incontro ok però devo vedere giusto una cosa sola dammi soltanto comunque l'hai trovato non c'è da pescare non ne posso più quanto c'ha di attacco due allora lui tira te tira tre dadi e lui ne tira due chi fa più risultati vince occhio ora si sta sparando si sta facendo il combattimento quindi ora valgono tutti perché non è una prova capito l'occhio attiva un'abilità se te c'hai un'abilità con l'occhio il critico fa due danni il colpo normale ne fa uno quindi tira lui fa un danno te fai due danni due danni quindi te ti prendi un danno automaticamente prenditi un danno lui lui ha perso il combattimento però quante ce n'ha di ferite c'è scritto il valore di ferita no c'è scritto soltanto no non ha ferite no 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 ok hai vinto il combattimento quindi cosa faceva il tuo lavoro cosa diceva se lo elimino mi dà 5.000 crediti un punto fama se lo catturo devo portarla accantonica sta a te hai vinto il combattimento lo catturi o lo ammazzi lo catturo lo catturi quindi prendo il suo segnalino mi ha detto brava e lo porto accantonica e lo metto qua e lo metto e lo metto com'è che faceva mando lo mettevo nella carbonite carbonite quindi hai fatto il tuo passo l'incontro tocca a me fammi andare a una lutta per favore 1 e 2 allora consegno il carico di incontro effetto una prova di conoscenza che non ho se che non ho è andata bene però finora eh no non ho conoscenza e non va bene l'ho fallita se fallisci risolvi la carta 41 adesso arriva Jabba the Hat quel cule mi ritrovo io permetto via tanto uguale 41 risolvi la sezione sottostante corrispondente al lavoro che stai risolvendo di chi è? ah del sindacato sindacato il capo teme che tu possa esserti alleato con i suoi nemici se possiede reputazione hat positiva no scarta questo lavoro cioè non l'ho capita allora il capo teme che tu possa esserti alleato con i suoi nemici se possiede reputazione hat positiva scarta questo lavoro ah no 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 se no mi toccava scartarlo no perché non ce l'ho reputazione hat positiva che culo ho avuto quindi niente l'ho consegnato ricompensa ottieni 5.000 e una reputazione sindacato quindi vado su 5.000 per favore se possiedi già reputazione sindacato prendi anche un punto reputazione perdi ah e teni un punto fama no non prendo punto fama eh no però ho preso i 5.000 scarto qui sotto ok così e era la mia azione di coso poi potrei fare anche qualche altra azione qui perché potrei oh 10.000 potrei prendere l'equipaggio ma aspetta sei arrivato lì si hai portato la missione alla seconda no 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 azioni ne puoi fare quante te ne pare solo una per tipo ora vediamo lui se è bellino 10.000 quando completi un lavoro puoi ridurre le ricompense in crediti del lavoro a 0 per ottenere un punto fama aggiuntivo lo piglio subito lui tanto sto facendo cazzate perché non cambio nave io però spendo 10.000 prendo lui come equipaggio e qui si gira la carta ecco la ribellione si muove di 3 verso di me quindi fanno 1 2 2 e 3 no non possono stare in un pianeta si 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 in orbita si le pattuglie possono stare su un pianeta come allora devo fare l'incontro con il tuo e non me l'hai fatto fare mi hai detto no non è pianeta con me non può stare si 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 ci possono stare si si ci sono capiti male ci possono stare si sono sbagliato io scusa poi fatto io ho preso soldi l'ho speso e tutto e devo fare l'incontro carta incontro mi trovo su potrei anche provare a battere uno di quei due però non me la sento io mi trovo su Nalutta quindi mi dai la carta di lì allora Nalutta se possiede reputazione att positiva no se possiede reputazione att come negativa o neutrale un gangster att in cerca di qualcuno con cui organizzare un nuovo colpo effetto una prova di tattica meno male l'ho preso lui perché c'ha tattica di tattica se la superi otteno reputazione att e poi compro la carta in cima al mazzo del mercato ok allora facciamo una prova di reputazione att ora valgono anche quelli normali boia tre risultati superata non mi interessa comprare niente e in più c'è un segreto puoi andare inizia inizia pure te allora io decido di muovermi anzi no aspetta 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 eh no devo fare per forza risanato tutti i danni quando sei colpito giusto come o non vieni ferito devi per forza risanare tutti i danni no 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 te li puoi tenere le devi risanare tutti solo se sei stata sconfitta te non sei sconfitta uno due tre quattro cinque no eh sì uno due tre quattro e cinque dove devi andare te poi io voglio andare lì verso quello cos'è non mi castle no questo è mon calamari voglio andare verso lì perché c'è un altro punto bianco lì io voglio vedere chi c'è ma tu c'hai più missioni scusa sì c'è questa che l'ho fatta questa è un'altra missione un'altra taglia è sempre un punto bianco io devo andare a cantonica poi e quello lì dove lo devi consegnare tizio cantonica a castle a castle a castle che qui un tempo veniva andrà prima qui e poi andrà oltre vabbè ormai poi torni indietro cosa fai uno due tre in più poi altri uno due tre sono cinque punti in più vedete eh fatto azioni non puoi fare niente perché sei lì incontro fase dell'incontro sì che è va boh al solito guarda se c'è scritto pattuglia o non pattuglia c'è scritto pattuglia in fondo lo devo leggere no ti devi leggere non pattuglia nessuna pattuglia ok se possiedi reputazione sindacato positiva no no se possiedi sindacato negativa o uguale neutrale ah ok con neutrale riceve una richiesta di soccorso da una nave intrappolata all'interno di una di marcia spaziale gigante puoi effettuare una prova di tecnologia non ce l'ho vabbè vai tira uguale puoi effettuare se la sopra ottieni duemila crediti e una reputazione sindacato tira tre devi fare un critico visto che non c'è l'abilità critico fatta quindi duemila crediti sì quella la rimetti sotto e reputazione in più sindacato eh sì quello giallo sindacato è giallo ma c'è scritto le cose per quanto vado a aumentare uno tutto in cima sono tre livelli positiva negativa neutrale fatto il coso lì fatto tutto fatto l'incontro tocca a me non diceva di muovere pattole pattuglie non ci stanno rompendo i coglioni io devo sempre aspetta questa cosa qua mia quando ti pare la puoi fare quando ti pare però una volta fatta la devi scartare mi sembra che c'è scritto no e poi scarta questa carta cosa c'è scritto sì quando ti pare anche se questi mi raggiungono ti faccio l'esempio quelli io non sono negativo con nessuno quindi non mi attaccano ti attaccano solo quando c'è reputazione negativa però ti bloccano a movimento quella lì con la pattuglia muovila fino a te ok quindi fino dove sono io qua non fa niente tanto non sono negativo con loro scatta scatta ok sciama tocca a me alzio il movimento mi muovo e vado dove cacchio devo andare io non mi lo do nemmeno in più devo andare su non c'avevo un lavoro da qualche parte o l'ho fatto prima o lo sai che su una luta l'ho già fatto il lavoro io non hai preso altre missioni tu però non hai preso altre missioni però non ho preso altre missioni ora ti faccio vedere una cosa che si può fare io sto fermo guadagno 2000 non mi muovo no al momento non c'ho non c'ho altre missioni allora come prima azione che posso fare ovviamente prende tutte le cose che ci sono qui al solito no incontro visto che mi ha messo una pattuglia sopra io posso anche decidere di distrugere la pattuglia no si ti da un negativo però guadagno i soldi che ci sono sotto ora visto che sono a corto di lavori e mi servono lavori per comprare una navetta migliore o qualcosa diamo un po' questo dice ricercato o se no no la rota di Kessel è quella che fece Anzolo la rota di Kessel che Kessel è? lì le vie destinazione Kessel risolve la carta 46 vai prendo questa quindi le gira lì sopra devo andare a Kessel muovi la pattuglia del verso di me no 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 dell'alleanza è già addosso a me vedi ma già raggiunto quindi non succede niente di che perché ripeto non sono un nemico nella fase dell'incontro visto che c'è una pattuglia posso decidere di combattere la pattuglia quanto c'ha di attacco? 3? sì io so 5 perché ho ottenuto più 2 passando di livello e chi fa più risultati? te ne fatti? 1 1 io ne ho fatto un critico quindi già t'ho fatto 2 ho vinto quindi ora scarta quella pattuglia quanti so di prendo? 5.000 ecco io divento negativo con la ribellione mi prendo un bel pezzo da 5.000 qua giù e in più una pattuglia della ribellione di livello 2 viene generata qui quindi questa ora è più forte ok? quando si arriva a livello 4 sono imbattibile come ti beccano sei morto vai ho fatto l'incontro tocca a te dimmi dove va andare lì Kessel qual è Kessel? sì questo è Kessel vai qui 1 2 3 4 5 no 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 scusami ho detto una stronzata lì Mon Calamari 1 2 3 e 4 Mon Calamari arrivata azione negozio vuoi fare qualcosa consegnare taglie risolvere lavori c'è qualcosa? no perché devo andare a Kessel vuoi girare una carta per fare cattiveria niente? no vuoi girare quella bianca bianca quello bianco è agente del sole nero ma vaffa culo niente però visto che è la girata 5 ce la farò mai a trovare questo qui non ce la farò mai allora il sole nero agente ovunque la loro rete di contatti è il maggior punto di forza del sindacato se possiede reputazione sindacato negativa no ok se possiede reputazione positiva o normale puoi effettuare una prova di influenza finalmente tira influenza ora valgano anche colpito o normali fatto? un colpito? ti è venuto? si ok fatta se la super ottieni il membro dell'equipaggio sottostante scarte il segnalino dell'agente del sole nero quindi questo qui si scarta non c'è più e se fallisci puoi invece spendere 2000 allora guarda lui se lo preferisci rispetto a quello che hai ora come abilità come abilità e come soldi guarda un pochino si vai questo lo scarto chi è? v1 e le 22 si tanto hai fatto questa qui è la tua fase dell'incontro si io cosa devo fare invece andare a Kessel quindi mi muovo di 5 allora facci vieni vieni tanto ce l'ho qui 1 2 3 4 5 azioni niente niente boh così non c'ho da fare nulla se possiede reputazione sindacato positiva si il contrabbandiere si rivolge a te con un ghigno pensi di essere il pilota migliore perché non lo dimostri in questo campo di asteroidi puoi effettuare una prova di pilotaggio e ce l'ho vieni fallita che figura di merda no però aspetta no aspetta aspetta no però pilotaggio ce l'ho a lui ce l'ho pesante il culo si ce l'ho aspetta ce l'ho fallita no se la fallisci la tua nave subisce 3 danni se no prendevo 3000 no la mia nave sta per esplodere prossimo turno se già cosa devo fare no bello anzolo il miglior pilota della fascia della della rotta di Kessel ma della rotta nera culo allora spostami tanto tu è finito aspetta vai di dirlo tanto tu è finito no si spostami a Cantonica lì Cantonica quindi fai 1 2 fermi un attimino come ce l'ha la reputazione con loro io sono tutta buona no reputazione con la ribellione quindi sono quelli rossi neutrale se una pattuglia è neutrale no la gialla è quella lì cazzo il sindacato sì no io sono positiva allora rifacciamolo allora ti sposti 1 2 sì le reputazioni con il sindacato sai positiva ti lasciano passare se erano neutrale ti fermavano per un controllo se erano negativi ti attaccavano quindi ti sposti e hai fatto 2 3 4 e 5 Cantonica oh allora fai negozio aspetta prendo 5 6 e 7 perché consegni un carico è un segreto un carico più un punto fama sto facendo un carico sì sì e questo a start poi non ce le metti sotto fai come me io ce le ho messe sopra appoggiate che te frega poi consegno robot lui consegno lui e c'ho 10.000 ma che cazzo è 10.000 vedi la pazienza altro punto fama ah no aspetta eh no io c'ho l'abilità devo prendere 4.000 crediti perché? perché c'ho l'abilità di ogni lavoro 2.000 crediti per ogni lavoro cioè ogni lavoro ti paga di più? sì ma non te le metti lì so fa casino metti lì sotto adesso le metto io bene adesso è andata a destra che non sulla scheda allora siccome è consegnato adesso guardo un attimo qualcosa al mercato c'è il cosa? lo slave one eh adesso guardo allora lo slave one costa 20.000 ok e poi ti do la scheda ovviamente ti dà 6 di movimento 5 di attacco e 6 di punti ferita eh ottimo oh Boba Fett se lo deve prendere costa 20.000 quanto c'è lì? ce l'hai? sì ce l'hai tutti vai lo vuoi? allora quella nave lì la scarti aspetta ovviamente mi rimangono 5.000 la nave lì scarta quella che c'hai ora non perdi carico non perdi nulla scartata sì solo quella lì damla a me sì ti infondo e ti sei presa lo slave one e lo slave one se non erro lo devi mettere dal lato ah no è un pattugliatore e poi c'è un nuovo obiettivo della nave guardate l'obiettivo della nave cosa c'è scritto cos'è quello? no no quello lì lo scarti no no questo non serve a nulla questo se ne va questo andrebbe scartato la nave non c'aveva obiettivi questa è stata comprata vai cosa dice l'obiettivo? lo posso leggere? lo devo sapere tutti è abbastanza segreto l'obiettivo della nave incontro scontrati in combattimento navale contro un giocatore nella tua casella anche se ti trovi su un pianeta che possiede più fama di te se vinci o tieni un punto fama e gira questa scheda però io non ho più fama di te è quello che ho fatto per ora quindi per ora non la puoi fare ok allora aspetta ho portato fase degli incontri capito? eh sì fase degli incontri quello bianco lì quale? quello bianco lì personaggio questo qui oh sarà lui Gun oh è lui Garindan allora visto che ce l'hai come obiettivo ce l'hai? non devi girare la carta lo devi semplicemente combattere quanto c'ha di caratteristica? tre di danni ok te quanto c'hai? tre io sono tre ma scusa te la tua missione personale del personaggio cosa diceva? quella personale mi diceva ottieni di compensi di due taglie di due taglie per ottenere un punto fama e girare questa carta allora l'hai fatta? no ma questa è un'altra taglia la seconda vai vai uno uno critico e due normali distrutto l'hai questo qui si leva l'hai polverizzato e cosa succede? decido di accatturarlo ah ok lo catturo lo metto guarda qua ti metto non è carico sai a me che vincerai vai siccome ha fatto due taglie però la ricompensa della taglia è soltanto quando la porto si la devi consegnare dove lo devi consegnare c'è scritto si gira la tua carta l'hai fatta le taglie o no no le devi consegnare devo portare a temine quindi tocca a me devo portare a temine di Kessel prova fa la prova di influenza vai allora dichiari di essere un signore del crimine intenzionato a investire nel commercio di spezie effetto una prova di influenza se fallisci il lavoro fallisce influenza fatta ok quindi non fallisce lo rimettiamo a posto e consegno il lavoro quindi consegno il lavoro che è questa carta qui e ottengo boia ottengo 10.000 e 2 punti fama te capi o te stin 10.000 e 2 punti fama no questa non è qui questa qui dove sono qui 10.000 eh guardami vanno via bo baffetto riportami a Mon Calamari però aspetta io cosa no io consegnato devo fare ancora l'incontro o se no posso spendere soldini questa qui com'è vediamo un pochino nave da carico pesante 6 di movimento 3 d'attacco sai che c'è me la compro allora scarto queste qui questa nave qui io le rimetto sotto andrebbero scartate perché le navi non si può avere la stessa in due no guarda cos'era il prossimo a disprezzo guarda cos'era guarda cos'era a disprezzo il prossimo quindi la nave che ho comprata qual'era non ne ricordo già nemmeno più era questa qui questa qui quindi questa va qui le ferite e le scarto non ce l'ho più perché ovviamente non è che me le porto sulla nave nuova e poi devo fare così 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 questa si scarta equipaggio e modifica della nave ok ora si muove di sé quindi fine 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 incontro potrei o rivelo un incontro di questi qua o provo a fare uno di quei bersagli lì però non mi interessa quindi provo a rivelare un incontro di Kessel io non c'ho più lavori però vabbè Kessel i Pai che esigono che tu dia dimostrazioni di essere fedele solo e soltanto a loro puoi perdere un qualsiasi ammontare di reputazione att ribelle e imperiale poi se possiedi reputazione att negativa ribelle negativa e imperiale negativa ottieni un punto fama e una reputazione sindacato cioè praticamente abbasso tutti ma sì abbasso tutti però ti hai fatto una cazzata però prendo un punto fama ti hai fatto una cazzata sono odiato da tutti tocca a te perpa quanto ti muovi ora sei mi sembra uno due tre come sei con loro col sindacato tre quattro e cinque e sei palino dopo aspetta un attimo quel palino rosso cos'è? maelstrom quando arrivi lì finisci il turno ti fermi una vez si ferma perdi il turno quindi devi fare la rotta più lunga fa la rotta più lunga metti l'altra palina ok e niente faccio non c'è nulla incontro incontro con lui e qua e qua ti incontro nessuna pattuglia sono pattuglia se possiedi reputazione ribelle positiva no sono neutrale ecco se possiedi negativo o neutrale i tuoi motori non mi guasto e si costretta in pieno mi sembra una prova di tecnologia ce l'hai tecnologia o no? uh successo cosa fa? niente se fallivo ho due danni ok hai fatto l'incontro basta io non ho lavori però fai vedere un attimo le cose ok io ora mi muovo di 6 anch'io faccio 1 2 3 4 5 e 6 niente incontro nessuna pattuglia se possiedi reputazione ribelle è un negativo o no? se possiedi reputazione ribelle è un negativo non note elimine spaziali finché non stai per finirci sopra manovre illusive presto effetto una prova di pilotaggio ce l'ho però questa volta ti prego ti prego meno male effetto ok vai tocca a te portami lì fino al punto allora 1 2 3 4 5 6 nessuna pattuglia nessuna pattuglia dove è? cosa? dimmi quelli della flotta hat hat ripamore dove ti pare? si giabba lasciami stare fine tocca a me 1 2 3 4 5 vengo sulla stessa tua perché? allora ti dico allora uso questa scarta questa carta e scegli un altro giocatore nella tua casella no aspetta scarta questa carta e scegli un giocatore nella tua casella ottieni un punto fama e quel giocatore perde un punto fama in che senso? io ottengo un punto fama ma cos'è sta cosa? amore scarta questa carta e scegli un giocatore nella tua casella che possieda più fama di te no no aspetta no uso quell'altra scarta questa carta e scegli un altro giocatore nella tua casella quel giocatore sceglie se non applicare nessun affetto quindi la decisione è tua o se fai ottenere un punto fama sia a me che a te quindi io andrei a 5 e te andresti a 3 comunque la devo scartare perché l'ho usata la vuoi fare o no? prendiamo un punto fama tutte e due va bene io vado a 5 quanto sono buona? io sono a metà strada vai e questa era la mia prima azione la seconda non posso fare niente però aspetta reputazione alta tua? positiva incontro allora se possiede reputazione imperiale negativa ecco l'impero è dappertutto e ti dà la caccia muovi la pattuglia imperiale direttamente fino a una qualsiasi casella adiacente alla tua quella? no la pattuglia no quella era il ribellione imperiale sono guarda un po' questa qui una adiacente quindi aiuto non ho fatto niente non ho fatto niente non ho fatto niente tu che a te mettimi su castle allora consegno lui vivo e fecce po' ah poi c'è scritto pattuglia no 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 niente solo quando la peschi dal mercato tranquilla allora non si è fatto prima no 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 quando la giri dal mercato non quando la compri bene 7 8 9 5 6 7 8 9 9 9 tu la crediti 2 punti fama ma va c'è cazzo quanto sei? 5 2 punti fama ah così devo metterla? cosa? tutto in cima tra fine quella lì la rimetti sotto era quelle? sei sicura? guarda un po' vai poi incontro no scusa puoi fare anche mercato ricercato è segreto o lo devo leggere? non posso leggere? no quando è segreto è solo se è capovolta ah ok ma tanto non c'è bisogno che la leggi è tuo il lavoro sai che cosa devi fa? no mi interessa ok quindi ne riveli una sopra tra si muovono le pattuglie si cosa? la pattuglia si muove di tre posso fare 1 2 e 3 si e non si fermano sul maestro ma loro vanno oltre vai ok no no così no ormai non compri più da ok no ah quella lì se la vuoi prende? si se la vuoi la può prende si si tanto non è ancora comprata quindi l'azione di mercato non mi interessa se no c'è il millennium falcon se no c'è bellina questa questa per 3.000 ti dà più una eh al cannone della nave te ce ne hai modifiche alla nave no? modifiche alla nave ce l'hai? ce ne ho una ma posso mettere un'altra ha due modifiche prende la tua? si come due modifiche? si carica la modifiche no che aspetta oh movimento in più però no o è un movimento che disegno c'ha? movimento in più mi dà ottieni un movimento in più la vedi? cerchete la volevo vedere anche io perché mi interessava anche a me eh e spendi 3.000 vai vai mamma mia tra basta si può comprare ah scusa aspetta rivelo non si muove nessuno cosa degli incontri si poi o fa l'incontro del pianeta o riveli uno di questi per ammazzarli e sei su Kessel Kessel nel crimine come in tutti gli affari conta più chi conosci che non cosa conosci ah puoi perdere una reputazione in confronto di una fazione con cui possiedi reputazione positiva per ottenere 4.000 crediti se lo fai puoi perdere una reputazione in confronto di un'altra fazione con cui possiedi reputazione positiva per ottenere un punto a fama scegli te cazzo questo è buono tanto se perdi una reputazione tutt'al più vai a a neutrale con qualcuno tanto posso sempre andare positiva se faccio qualcosa abbassare una a neutrale non ti chiedi niente di strano ok col sindacato quanto vai a reputazione a 6 dovrei andare a 6 sì sì anche io ho no io ho 5 fatto? sì quindi il tuo incontro è fatto ora tocca a me faccio 1 vengo qui da te ora questa la posso usare scarta questa carta e scegli un giocatore nella tua casella che posseda più fama di te ottieni un punto fama e quel giocatore perde un punto fama quindi io vado a 6 te vai a 5 poi perdi una reputazione a scelta di quel giocatore scegli te dove la perdi una reputazione? del sindacato sono odiato completamente vai poi vediamo un po' in or negozietta vieni invece di far qui tanti non c'ho più lavori io non c'ho più niente allora questo sarebbe bellino ma non mi interessa a me mi serve un lavoro ricercato o favore ribelle quasi quasi riarzo la reputazione destinazione lotal dov'è lotal? eccola qui anche vicino proviamoci ma sì piglio questo qui quindi questo si gira si muove qualcosa no non si muove nulla quindi prendiamo questa qui che è un lavoro carta lavoro ok lavoro e taglia o taglia perfetto quindi ho comprato ho girato devo fare la fase dell'incontro e decido di fare l'incontro del pianeta anch'io vai di Kessel quindi vediamo un pochino cos'è i criminali possono portare rispetto a un fuori legge ricercato ma non esiteranno a tre diti se di mezzo c'è una ricompensa puoi perdere uno di reputazione nei confronti di una fazione con cui possiedi reputazione neutrale tutte ottieni 3.000 per ogni fazione nei confronti della quale possiedi reputazione negativa lo faccio allora vado negativa quindi ora sono nemico di tutti però ottieni 3.000 per ogni fazione nei confronti della quale possiedi reputazione quindi 12.000 per ogni fazione nei confronti della quale possiedi reputazione negativa muovi la pattuglia di quella fazione di 4 caselle verso di te non avevo calcolato ecco sono cazzi tuoi allora questo quindi mi prendo 12.000 aspetta 1 2 vabbè quanto è questa 5 10 e viene qua a tutti 1 2 e 3 no 3 perché viene la cosa più vicina è quello 1 2 3 ciao hai fatto una stronzata più grande della tua vita fase dell'incontro devo fare ma sono tutte e due sul pianeta sì mi arrendo non entro in contatto contro di te visto che sono le mie mi arrendo allora la prima tiriamo prima per questa io tiro 3 da di te 3 e vince è il migliore boh che culo di merda io ho fatto un critico a te niente quindi quella pattuglia è distrutta quale questa qui e guadagno 5000 per ora mettiamola da parte però guarda l'hai rigenerata uno no cos'era questa via mi dai 5000 poi andiamo con la seconda poveria no hai avuto il culo distrutta anche quella hai avuto il culo perché io ho veramente sfiga e una verde che si genera una verde no poveria e guadagno altri 5000 sono ricco ah questo è 10.000 vabbè ormai prendo vesti sono ricco sono ricco bene tocca a me tocca a te tocca a te io sono ricco e ora quasi quasi so già come spenderli io so già come spenderli io te la scarto no 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 aspetta non ti muovi se passi alla fase dell'azione non ti muovi piglia 2000 o risana le ferite vai no 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 la scarto la devo scartare lo scoprirete nella seconda parte milenium falcon no ma queste cose lo compro io si c'è lo slave one e compri il milenium falcon scartala io devo essere buona con te scartala no ora la scarti no scartala questo cos'è io l'avrei scartata tu non hai niente in neutrale no no tutto negativo quindi non posso risolvere questo combattimento perché lui dice quindi posso scartarla comunque e prendermi comunque la ricompensa capito? se non puoi fare il combattimento no la devi poter risolvere tutta completamente altrimenti ottieni si se dice altrimenti si se dice altrimenti si gira quello ok che si muove? i ribelli i 4 1 2 3 si no tutte non è la stessa? no 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 si tutte non è la stessa oppure no la metto no non puoi perché fanno la strada più breve quindi qui vai vabbè si sa eeeh vai mettila sotto questa no la posso prendere no 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 su guerrera cazzo bellissimo no perché hai già comprata una dal negozio su guerrera allora hai fatto il mercato incontro incontro vuoi fare uno di questi due bersagli per ammazzarlo e prenderti la taglia e oh perché no ma non ce l'ho la missione è uguale le puoi fare lo stesso li puoi incontrare e magari gli incontri la storia ti dice lo prendi come alleato o lo ammazzi e guadagni o sennò fai un incontro del pianeta incontro del pianeta nè cazzo cazzo se possiedi reputazione sindacata positiva sì no no neutrale merda nessuno trasporta carichi illegali in questo settore senza l'approvazione dei paiche se non possiedi alcun carico puoi muoviti di una casella altrimenti perdi 3.000 non ho nessun carico quindi di una casella vai nel maestrom così un po' dopo vai avanti te dove devi andare da che parte io non ho nessuna direzione e allora cerca lavori no aspetta fermi tutti siccome quest'anno la posso fare perché tu non hai reputazione positiva e non scusami neutrale posso già beccarmi la ricompensa c'è scritto beccate altrimenti no ma non lo puoi fare solo nella fase delle azioni non in quella dell'incontro al turno dopo scusa quella lì scartano muoviti nel maestrom diretta tanto non ti ferma perché al turno dopo poi ti rimuove ancora ok tocca a me io devo andare a lotean lì come no come si chiama lotal che è qui quindi mi muovo di ah no boni no finisco il turno lì porca puttana dammi 2.000 e compro il millennium falcon però lo compro pagandolo 10.000 perché è baratto la mia nave baratto e prendo il millennium falcon quindi levo queste due questa la baratto ci tengo a precisare che non l'ho voluto scartare perché non piacere a lui ti amo ti amo da morire poi se questo non è amore guarda ti amo infinitamente lui invece guarda non ha battuto ciglio permettimi con la carta per rubarmi la fame subito allora vediamo un po' girane una nuova per favore amore sopra così si vede si vede si scarta si mercantile leggero obiettivo dalla nave se possiedi due modifiche o una modifica il membro dell'equipaggio chiusubecca consegna un carico per ottenere un punto fame e girare questa scheda purtroppo no purtroppo no vedi potrò fare una cosa invece non l'ho fatta allora io ho finito il momento ho finito tutto faccio l'incontro stavolta ci voglio provare io dai tanto quanto sono combattimento tre però questo è un obiettivo giallo no 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 non me la sento non me la sento quindi pesco anch'io ragazzi purtroppo non me ne sono accorto è finita la batteria al telefono e si è fermata la registrazione il mio solito culo non abbiamo potuto registrare tutta la partita però vi dico una cosa da quando si è interrotto a ora che è finito è durata buona buona un'altra ora quindi sarebbe venuto un video lungo di un'ora e mezzo due ore sarebbe venuto veramente troppo lungo insomma poi dopo un pochino penso che è stanca avrei dovuto dividerlo in due parti devo dire la verità dopo questa è tipo la quarta o la quinta partita che ci facciamo e mia moglie me è garbato veramente da morire l'unica cosa l'unica l'unica ma una piccolezza non cambia il voto di quello che ho detto nella recensione andatela a vedere se ci fossero state le miniature e anche le miniature delle navette sarebbe stato forse più intrigante e immersivo però sarebbe costato anche il doppio il gioco allora il gioco come regole è velocissimo è una cavolata avete visto come gira il tunnel e tutto quanto più che altro è molto lungo molto molto perché prima di arrivare a 10 punti fama ora lasciate stare che anche mia moglie si è giocato un po' a divertirsi perché se uno inizia a fare tutti i lavori fa presto a fare la fama però come regola è veloce ma come svolgimento del gioco secondo me ci vuole quasi due ore per finire la partita comunque la partita è finita che ci siamo dati battaglia e lei ci siamo rubati le taglie una cosa o un'altra e alla fine per una mossa fortuita perché praticamente il mio Anzolo è finito sulla casella di una pattuglia che dopo un'azione di mercato mi si è mossa contro che era dei ribelli io con i ribelli avevo in quel momento lì reputazione negativa e quindi comunque ho dovuto affrontare un combattimento anche per mia scelta perché lo sapete uno dei combattimenti nella fase incontri può essere una pattuglia l'ho affrontati li ho distrutti e dava un punto reputazione da 9 sono passato a 10 perché nel gioco base a 10 finisce la reputazione nelle partite avanzate si può arrivare anche fino a 12 però dura ancora di più e ho vinto la partita ma ve lo dico fortuitamente anche perché mia moglie era arrivata a 7 di reputazione quindi ci mancava veramente poco e più che altro ha perso 4 turni a combattere contro Ciubecca che ha la bellezza di Forza 6 non è mai riuscita ad abbattere quindi praticamente diciamo che 6 turni l'ha perso stando lì a combattere con Ciubecca però vabbè l'ho vinta abbastanza di culo detto sinceramente e mi è garbato veramente da morire fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti al solito primo link è in descrizione dove acquistarlo ciao ragazzi alla prossima